Secondo pareggio di fila per il Marcianise che non va oltre l'1-1 a San Giorgio a Cremano. Mister Matarese per la gara contro i Granata deve rinunciare allo squalificato a Mita. Al suo posto viene scelto Gennaro Labbaro con il neo acquisto Alfonso Trapani che inizia dalla panchina. Pronti via e si capisce subito che il San Giorgio non vuole essere la vittima sacrificale. I locali sono infatti intraprendenti e cercano subito di mettere pure al Marcianise con Nasti che in beccato d'ottobre calcia addosso al portiere mezzacapo. Il Marcianise pian piano diventa padrone del campo anche se la prima chiotta occasione è sui piedi di ottobre e con una splendida punizione sfiora la rete al ventesimo. Comincia a salire in cattedra di Rocco per il Marcianise. Al venticinquesimo gli ospiti pericolosi dopo una bella percussione centrale di Gennaro Labbaro. La sfera arriva sui piedi di Ciano che serve un assist prezioso per la corrente Gelotto che da pochi passi spara alto. E l'azione del preludio al gol. Due giri di lancette dopo arriva infatti il meritato vantaggio giallo-verde con l'Auro. La rete realizza uno splendido gol su assist perfetto di Gelotto. Nel miglior momento degli ospiti però arriva quello che non ti aspetti. Al quarantaquattresimo brutta palla persa di Gelotto a centrocampo e ripartenza letale dei locali che puniscono con Nasti. Nella ripresa la musica cambia. Gli ospiti sono disuniti. E al cinquantatresimo pericolosissimo il San Giorgio che coglie in pieno la traversa. Miracolo di mezzacapo che devia sul montante alto il gran bollire di Esposito. Alla fine finisce 1-1 con il secondo pari consecutivo dei giallo-verdi che non riescono nell'aggancio alla vetta. La vittoria per i ragazzi di Matarese è rimandata di una settimana. Al Procreditors domenica ci sarà il derby col San Nicola.